Un applauso per Aoi Nakamura, incoraggiamola, una splendida artista giapponese che suonerà in questa prima parte Poulenc, la Suite Napoli di Poulenc che è un brano che il grande compositore francese ha scritto proprio dedicandolo a questa città italiana. Poulenc è definito un po' il Nino Rota francese, Nino Rota è definito il Poulenc italiano, quindi questo è un brano particolare poco eseguito, vi auguro un buon ascolto con Aoi Nakamura che è un artista veramente strepitosa e ve ne accorgerete subito. Buon ascolto! Grazie! 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 sempre con i rave, adesso abbiamo altri artisti che stanno arrivando, quindi sistemiamo il palco, se deve essere sistemato, noi ci salutiamo, un altro applauso per Aoi che è grandiosa, bravissima, veramente brava, continuiamo, bravissima, grazie di essere qui, il pubblico che si accomoda, benissimo, potete anche per questi primi momenti accomodarvi anche più avanti, anzi vi suggerisco di venire più avanti, in modo tale che potete godervi lo spettacolo, poi dopo di che si rimescoleranno un po' le carte, però intanto per il momento siamo qui, benissimo, chi abbiamo qui? Venite, buonasera, ciao, benvenute, ciao, ciao, benvenuti, e l'edizia dei e Chiara Saccone che ci fanno sentire un programma molto bello, molto interessante, è Benjamin Britten, compositore inglese, che ha composto in tantissimi stili, vero? Verissimo. Per varie occasioni, per occasioni di riflessione, per occasioni di festa, questi brani come sono, che carattere hanno? Sono stati scritti su dei testi di Odom e sono pensati per essere suonati all'interno di musical, quindi sono stati scritti per il teatro, più per attori che per cantanti, però ovviamente Sanzo Britten ha una scrittura vocale impegnativa, è anche importante, voi venite da Firenze, noi veniamo da Firenze, bene, quindi adesso abbiamo avuto per il momento Abruzzo, mi pare, Toscana, Giappone, e ne vedremo di tutti i colori, anche perché insomma mano a mano avremo anche, tra l'altro una notizia di poche ore fa, questa sera sarà con noi anche la straordinaria pianista Beatrice Rana, che suonerà per il nostro pubblico per questo rave, e quindi cosa dire? Divertitevi, fateci divertire, siete in diretta, stiamo registrando per Radio 3, in bocca al lupo, grazie per essere intervenuti al nostro rave, davvero grazie, buon ascolto! Libe, l'amor, amor, amoris Some say that loves a little more, and some say it's a bad, some say it makes the world go out, and some say that's absurd, but when I asked the manic son, who looked as if he knew, his wife was very cross indeed, and said it wouldn't do. Does it look like a flower, a pijama, or a main heavy temperance all day, oh tell me the truth about love? Does it work like a flower, or is it a comfort this man, oh tell me the truth about love? Is it a comfort this man, oh tell me the truth about love? Oh, tell me the truth about love I looked inside the summer house It wasn't heaven day I've tried the things I made in hate And brightens bracing pain I don't know what a black person Or what a roses said But it wasn't in the checker vine Or under me the bed Can it pull extraordinary pieces? Is it usually sick on a sweep? Oh, tell me the truth about love Does it spend all the time of their races Or fleeting the pieces of stream? Oh, tell me the truth about love Oh, tell me the truth about love Your feelings when you meet it I'm told you can forget I've sought it since I was a child But haven't found it yet I'm getting home for 35 And still I do not know Oh, tell me the truth about love Oh, tell me the truth about love Will it walk on my door in the morning Or treat in the bus of my toes Oh, tell me the truth about love 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 Oh, tell me the truth about love